Come risponde a Bandecchi su un centro largo? Noi siamo Forza Italia, Forza Italia è il Partito Popolare Europeo d'Italia, siamo disponibili ad ascoltare, ma non siamo disponibili a cambiare il nostro sindaco. Quindi se qualcuno vuole, grazie a un accordo politico, dovrà far parte delle nostre viste, siamo ben favorevoli. Questo è uno Stato, infatti, pronti a dialogare. Forza Italia è Forza Italia, forza di governo, non rinunciamo certamente alle nostre identità. Siamo disponibili ad aprire, a confrontarci, altre forze che hanno una visione simile a nostra e coinvolgono il principio del popolarismo europeo, poi si vedrà, si discute. E parleremo. Grazie. 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 Grazie.